Arriva a sorpresa il nome del regista che dirigerà il primo film della nuova trilogia della saga di Star Wars che uscirà nel 2015. Episodio 7 sarà diretto da J.J. Abrams, creatore di Lost, e regista di Super 8, Star Trek ed eliminente Into Darkness. Insomma, secondo quanto riportano Variety e The Hollywood Reporter, Abrams e la Disney sono sul punto di firmare il contratto per questa ennesima avventura della saga, prima di una nuova trilogia. George Lucas, creatore di Star Wars, aveva infatti venduto i diritti alla Disney lo scorso ottobre.